Partita tatticamente perfetta. A livello difensivo la Juve non ha sbagliato praticamente nulla tranne nell'occasione finale dove Di Gregorio ha rischiato tantissimo, poi il fallo e la carica c'erano, inutile che Emery va a fare il casino dopo la partita davanti alle telecamere perché comunque la carica su Di Gregorio c'è stata. Dunque spegniamo qui le polemiche, non voglio sentire e vedere commenti di protesta perché non esiste. Dopodiché se dovessi trovare un colpevole questa sera per la mancata vittoria, ecco voi mi darete del pazzo, a me non interessa ma proprio un bel fico secco, sapete chi è il colpevole per me? E' il signor Dusan Vlaovic. Perché dico questo nonostante non ci fosse in partita? Perché il signor Dusan Vlaovic ora sta facendo i dispettucci, non gioca finché non è al massimo perché avrà discusso con Tiago Motta dopo che è tornato dalla Nazionale con le sue brillanti dichiarazioni, decide di non mettersi a disposizione e la Juve stasera che aveva bisogno di lui come il pane non riesce a schierare nessuna punta in avanti e non riusciamo ad andare in gol perché in squadra in questo momento a livello strutturale non c'è un ricambio. Quindi il signor Vlaovic è pregato di accomodarsi fuori dalla sede della società alla fine di questa stagione. Per quanto mi riguarda ha chiuso. Ildiz ancora una volta non prova, la giocata deve avere più coraggio sto ragazzo, ma se avessero avuto una punta centrale a disposizione stasera avremmo vinto la partita. L'avremmo vinta perché le azioni comunque le abbiamo create. Grazie Dusan, grazie tutta la fiducia che ti ho dato buttata nel cesso perché hai deciso di fare i dispettucci e di non metterti più a disposizione finché il signorino non si rimette a posto, non ha nessuna lesione, non si capisce perché non giochi. Perché non giochi? Perché non giochi? Fammi capire. A livello strutturale ci sono dei problemi sicuro, certo, in più ci si mettono, a parte tutta la strage di infortuni, anche i signorini che fanno i dispettucci. Beh, per quanto mi riguarda è chiuso. Fino alla fine Forza Juve.